E Madre Speranza dice, guardi, di Natale, anche per loro, anche i poveri, devono mangiare almeno il giorno di Natale. Come tutto torna, mi sembra di sentire, di vivere quasi negli occhi quello che Papa Francesco ci sta regalando anche a tempo, al tempo d'oggi. Noi torneremo anche tra pochissimo a Colle e Valenza, torneremo davvero, anzi andremo alla sorgente di quest'acqua che è un altro.